I musei vaticani sono un insieme di musei e gallerie che si trovano nel Vaticano. La città-stato della città del Vaticano. Fu Papa Giulio II che nel 1506 commissionò l'apertura di questi musei al pubblico. Oggi i musei vaticani sono uno dei luoghi più visitati al mondo. Con oltre 6 milioni di visitatori all'anno. La collezione di opere d'arte dei musei vaticani è una delle più grandi e complete al mondo e include dipinti, sculture, mosaici, opere d'arte decorative e architettoniche. I musei vaticani sono un insieme di musei e gallerie situate all'interno del Vaticano. Fu Papa Giulio II a commissionare la costruzione delle sale del Belvedere. Inizio del XVI secolo. Che ospitano la collezione di statue antiche. La Pinacoteca Vaticana è la galleria d'arte più importante al mondo e contiene opere di artisti. Come Leonardo da Vinci. Raffaello. Giotto e Caravaggio. I musei vaticani sono un insieme di diversi musei situati all'interno del Vaticano. I musei sono aperti al pubblico e contengono alcune delle più famose opere d'arte al mondo. Come la Cappella Sistina e la Statua della Libertà. Da.